Salvatore Tortora Ho fatto anche l'amica geniale dove sono stato co-protagonista in due episodi Ho fatto il figlio di Lila Gennarino E poi ho fatto il co-protagonista nel Passion Week di Roma Gioffè Dove sono stato due mesi a Marta Israele Nella vita studio a liceo linguistico perché mi piacciono le lingue E come sport frequento il calcio Ciao Ciao Ciao